le sue condizioni sono gravissime la sua vita è appesa ad un filo è stata trasferita dal santimotio di termoli al cardarelli di campo basso ed è sotto la stretta osservazione dei medici in rianimazione è in coma la 47 anni di termoli che a lunedì 30 circa della notte tra martedì e mercoledì è caduta dallo scooter su cui viaggiava lotta tra la vita e la morte l'incidente è avvenuto lungo la strada che dall'ospedale di termoli conduce a colle macchiuzzo a poca distanza dal bivio per la tangenziale l'impatto con il suolo è stato tremendo e la donna ha subito lesioni gravissime la situazione è apparsa molto seria già i soccorritori giunti sul posto